Io devo dire però che questi gesti che rimandano alla concretezza delle parole e non delle chiacchiere, quello che è sempre mi è rimasto molto impresso è quando siamo stati a Lesbo, nel volo verso questo campo di concentramento dove erano i rifugiati insieme peraltro ai leader della Chiesa Ortodossa. E di questi gesti che hanno il senso della concretezza ma anche della prospettiva evangelica mi rimarrà sempre impresso quando il Papa scende poi, ritornando da questo viaggio all'isola, scende dalla scaletta e non c'è lo stuolo di partecipanti che vanno dietro al Papa, al seguito del Papa. Ma tutte queste donne col velo e con i bambini in braccio che scendono dietro di lui perché sono quei rifugiati che ha portato con sé ma che appunto avevano le condizioni per poter venire in Italia. Quello è stato un gesto concretissimo appunto in questa prospettiva della migrazione sicura e comunque io credo insomma che questi gesti debbano essere compiuti proprio perché si veda che questo è possibile che questo è la realtà con cui dobbiamo andare avanti.